RIPOSA TRA LA SUA GENTE LUIGI TOSELLI che con il fratello fondò Telecupole. Lo ricordiamo per aver dato vita ad una televisione diversa, una televisione piemontese per tutti i piemontesi e non solo. Anche per questo Telecupole e sopravvissuta aveva capito quello che la gente voleva voleva divertirsi e socializzare. Una trasmissione di successo fu la trattoria dei ricordi, una trasmissione alla quale anche noi collaborammo, una trasmissione che dava alla gente la possibilità di partecipare e spaziare per tutto il Piemonte ed oltre. Anche per questo Telecupole deve continuare a sopravvivere nonostante le angherie, le sopravvazioni, le ingiustizie, deve continuare a dare ai piemontesi e ai non piemontesi quel soffio di verità, di libertà e di ottimismo che la gente oggi più che mai si merita. grazie anche allo Vigito Selli.